Quinta giornata, quinta battaglia da affrontare e possibilmente da vincere per l'US Avellino di Gnoffo. I bianco-verdi in questo turno si troveranno di fronte il bisceglie di miss Rodolfo Vanoli, dodicesimi in classifica con soli quattro punti frutto di una vittoria ed un pareggio. Sono solo due le reti siglate dalla truppa nero-azzurro stellata e ben sette, quelle incassate. Al di là dei numeri, spesso fini a se stessi ma forse sintomatici di una squadra riammessa in cidufficio dopo l'ennesima estate rovente sul fronte ripescaggi. Tornando alla gara del partenio Lombardi, sul fronte pugliese, mister Vanoli ha grossi problemi da risolvere. La debacle casalinga contro il Potenza ha evidenziato un calo più mentale che fisico dovuto ad un organico rimaneggiato in attesa che la condizione di Giulio e Bagua migliori e permetta all'ex Carpi di scendere in campo. Mister Vanoli dovrà affreidarsi ad Alessandro Gatto e Alvaro Montero, con il primo che inizialmente escluso dall'11 nella scorsa gara, ha dimostrato di poter essere la freccia più pericolosa del pacchetto offensivo nero-azzurro. Il Bisceie sa benissimo che questo campionato mantenuto nelle aule della FGC sarà un torneo di sofferenza nel quale ci sarà bisogno di qualcosa in più per mantenere sul campo questa volta la categoria. Piccola nota a margine tra le fila della compagine pugliese e milita un certo Reno Wilmot, centrocampista belga classe 97, che qui ad Avellino ha vestito la maglia bianco-verde senza sfigurare in quella dannatissima annata targata taccone che portò all'esclusione degli Irpini dalla cadetteria. Sono in totale 5 i precedenti tra Avellino e Bisceie, 4 in campionato ed 1 in Coppa Italia. Il bilancio è tutt'altro che favorevole ai bianco-verdi le prime sfide risalgono alla stagione 60-61 con i lupi che terminarono ultimi in Serie C con 20 punti e con in panchina Ernesto Maio massaggiatore nelle vesti di tecnico dopo gli esoneri di Agosto e Loprete. Un match quello di domenica che potrebbe rilanciare la squadra di Vanoli o appossarla definitivamente ridimensionandone il valore e relegandola nei bassi fondi della graduatoria in un girone che avrà pure le sue corazzate ma che in generale è mediocre a livello tecnico.